E' morto, lo saprete, Rodney Stark, un sociologo delle religioni molto noto che ha scritto tantissimo. Tantissimo per fare che cosa? Per fare un'operazione di verità che distingue la storia dall'ideologia. Noi siamo stati, siccome la cultura è importantissima e tutti lo sanno, lo sanno in primo luogo i marxisti, forse sono rimasti soli a saperlo. E allora hanno puntato tutte le potenze, i marxisti, i massoni, i protestanti, hanno puntato tutto il loro fuoco contro la Chiesa, in particolare contro la Chiesa cattolica. Ecco, Rodney Stark, che non è stato cattolico, così sembra, ha combattuto tutti i principali, non tutti, alcuni per esempio sulla Spagna, non mi sembra che l'abbia fatto sulla leggenda nera della Spagna, comunque ha combattuto tutte le ideologie che sono state spacciate per verità storica, quando sono palesi menzogne. Che cosa ha fatto lui? Ah, dice così nell'introduzione al trionfo del cristianesimo, che è un libro che ha scritto nell'undici, quindi già abbastanza anziano. Lui dice che porta nuove prospettive. Cosa intendo con nuove prospettive? Intendo che ho dato nuove risposte a vecchie domande e nuove interpretazioni di eventi ben conosciuti. Allora, perché? Se si guardano i fatti è evidente, per esempio, per dirne una, che dall'inizio il cristianesimo si è rivolto a tutti, comprese le classi dirigenti dell'impero romano. Perché Claudia, che Paolo menziona esplicitamente alla fine della sua lettera ai Romani, dicendo vi saluto, notizio, gaio, sempronio e Claudia, beh, Claudia non era una qualsiasi, era parte della famiglia imperiale dei Claudi. E dall'inizio il cristianesimo ha trovato accoglienza negli ambienti di potere, pudente, un altro senatore romano, che ha ospitato nella sua casa Paolo e Pietro, senatore romano, un potere enorme, immenso, una ricchezza smisurata. E così il secolo, i bui, il fatto che il cristianesimo sia incompatibile con la scienza, ha sventiato tanti menzogne. Voglio citare un'affermazione che ha fatto alla rivista Tempi, che lo intervistava nel 16, e lui dice «Ho perso la fede luterana, perché lui nasce in ambiente luterano, quando ero un ventenne, e sono rimasto senza fede, ateo mai, fino alla sessantina, quando anni passati a scrivere sulla religione mi hanno portato a concludere che il cristianesimo offre la spiegazione della vita più plausibile». La stessa cosa aveva detto quattro secoli fa Pasquale. Il cristianesimo è davvero la spiegazione più ragionevole alla ragione che si interroga sulle caratteristiche del mondo, sul perché della vita. A questo riguardo, noi italiani siamo diventati apostati e pertanto ignoranti, e pertanto non sappiamo niente della storia d'Italia, nemmeno, sappiamo solo le chiacchiere che ci hanno raccontato. Allora, noi secondo me dovremmo fare l'operazione, ma seriamente, l'operazione che ha fatto Rodney Stark per la storia della Chiesa in generale, perché in Italia noi abbiamo un fatto, la storia si fa a partire dai fatti, un fatto che è un'enormità, e cioè noi come piccola penisola siamo quelli che hanno in assoluto il predominio delle opere culturali e artistiche del mondo, il predominio. La nostra cultura, la nostra arte è al numero uno al mondo, senza confronto. Allora, com'è nata questa fioritura splendida dell'arte in Italia? Com'è nata? Sarà che ci ha avuto qualche merito la fede cattolica della popolazione italiana lungo due millenni? Sarà questo? Sarà quindi che andrebbe recuperata quella fede proprio nel nostro interesse, per capire qualche cosa del mondo?